Eccoci qua, amici della pancia del tifoso. Il Bologna è di nuovo con voi dopo la prima partita di campionato pareggiata con l'Udinese. Oggi commentiamo, questa sera, la sconfitta di Napoli. Brutta sconfitta di Napoli, sì, brutta perché in realtà non c'è quasi stata partita. Il Napoli comunque non ha mai dato l'impressione di poter non vincerla. E ovviamente dall'altra parte il Bologna ha dato l'impressione di poterla perdere in qualunque momento. E l'ha persa. 3-0. 3. Brutto perché è un inizio difficile, ovvio. Nuovi schemi, nuovo mister, nuovi giocatori, nuova situazione da affrontare. Il peso anche di un campionato conclusosi pochi mesi fa con una posizione importante, quindi ovviamente il Bologna diventa squadra da battere. Immaginiamoci per il Napoli, reduce dal 3-0 di Verona. Ha equilibrato la differenza retrica questa sera. È ovvio che davanti al pubblico, Conte, pressione, assalto, 3-0. Non è andata bene. Non è andata bene. Un Bologna che comunque ha manovrato, ma in maniera sicuramente meno efficace rispetto a quella a cui eravamo abituati con Tiago Motta. Un Bologna che si è mosso, si ha fraseggiato, ma in realtà non ha concluso niente, non ha mai avuto momenti nei quali poteva davvero pensare di entrare in verticale. Pochissime le occasioni, sì, qualcosa all'inizio, l'uscita di Meret, però via. Poca roba, poca roba. È un dato preoccupante secondo me riguarda comunque l'attacco, perché qui ci vuole qualcuno che fa gol, ci vuole qualcuno che è un punto di riferimento lì davanti, un qualcuno che non abbiamo più, perché sappiamo che è andato al Manchester United a fare anche dei danni il nostro Joshua, però certamente bisogna subito, ma subito, subito mettersi al lavoro. Settimana prossima si gioca in casa, prima della sosta della nazionale. Non sarà una partita facile, tutt'altro, anzi, anche per tradizione. Quindi, insomma, bisogna stringersi, bisogna stringersi, portare pazienza, stringere i denti, avere fiducia, credere nel lavoro dei dirigenti della società, consapevoli però che quello dell'anno scorso è stato un campionato straordinario. Sarà, io credo, quasi impossibile ripetersi. Metterei la firma su un bel campionato onorevole del Bologna quest'anno, comunque nel lato sinistro della classifica, in buona posizione, magari in lotta per l'Europa, metto la firma su una partecipazione alla Champions League onorevole, quindi con belle partite, ovvio, prepariamoci, perché sappiamo contro chi giocheremo, quindi prepariamoci anche a soffrire, ma allo stesso tempo prepariamoci anche a divertirci, a far parte di questo grande spettacolo e magari anche con delle piccole soddisfazioni, perché mica sono tutti il Real Madrid, il Barcellona o il Bayern Monaco o il Manchester City, via. Ecco, quindi aspettiamo. Non diamo giudizi prematuri, non allarmiamoci, non mettiamoci subito a fare tipicamente i bolognesi che criticano, 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 criticano quando vince, immaginatevi, immaginiamoci quando perde. Ecco, non critichiamo, analizziamo, riflettiamo, pensiamo al futuro, vediamo tutti insieme, tutto il sistema Bologna, come affrontare questo campionato e questa stagione 2024-2025 e vediamo. fiducia, ripeto, pazienza e anche spirito critico e di sopportazione. Una parentesi in chiusura, sapete, oltre al Bologna sono un grandissimo tifoso di Yannick Sinner, senza sé e senza ma, sempre forza Yannick Sinner. Ci vediamo la settimana prossima, ciao a tutti amici della pancia del tifoso rosso blu, amici del club Bologna-Pesaro, amici di Forza Bologna sempre e ovviamente, proprio anche facendo una ripetizione, Forza Bologna sempre.